L'azienda pubblica dei servizi alla persona di Macerata ha dato il via al progetto Alzheimer, dalla residenzialità alla domiciliarità. Un bando che scade il 25 febbraio, termine ultimo per presentare le domande. Il progetto ha lo scopo di offrire assistenza domiciliare alle persone affette da Alzheimer o dalla demenza. Il servizio, che non avrà un approccio farmacologico, sarà rivolto a un massimo di 30 persone residenti nel comune di Macerata e sarà finalizzato a sostenere e sollevare le famiglie nel lavoro di cura del proprio familiare affetto dalla patologia. Tutto questo per favorire la permanenza nel domicilio del paziente attraverso servizi di assistenza e momenti di socializzazione specificamente dedicati. Saranno predisposti dei piani individualizzati e saranno fornite gratuitamente delle prestazioni domiciliari di tipo infermieristico, socio-sanitario e socio-ricreativo, con una serie di terapie. Si va dalla pet therapy alla ortoterapia, la musicoterapia fino alla ginnastica dolce. In caso di necessità, inoltre, saranno installati a casa, sempre gratuitamente, una serie di ausili domotici, sensori, allarmi, sistemi di prevenzione. Per i familiari, invece, sarà previsto un sostegno professionale attraverso l'auto mutuo aiuto e il caffè Alzheimer. Il bando scade il 25 febbraio. Per seguire le procedure necessarie, si può scaricare il bando dal sito www.ircrmc.it o presentarsi allo sportello in forma Alzheimer di Macerata.